Buongiorno e ben ritrovati! Io sono sempre Francesca Simini, sono una bakery chef e oggi per voi ho pensato ad una ricetta molto semplice e molto estiva. Oggi prepareremo un carpaccio di zucchine con salmone norvegese, limone, olio culture d'op e pepe rosa. Partiamo dunque con la preparazione. Vi sono precedentemente preparata delle zucchine con una mandolina, quindi tagliate il più finemente possibile. Le adagiamo in un piatto. Creiamo la base del nostro carpaccio. Cerchiamo di non rimanere spazi vuoti. Iniziamo a condire il nostro carpaccio con dell'olio culture d'op, un pizzico di sale, premiamo del limone fresco, quindi versiamo il succo del nostro limone, ecco qui, ed è peperoso. Maginato al momento. Celeggiamo il nostro salmone norvegese. e condiamo ancora un po' il nostro piatto. nuovamente con il succo di limone fresco, un pizzico di sale, peperosa macinato al momento, e l'immancabile olio culture d'op. Ecco pronto il nostro carpaccio di zucchine con salmone norvegese affumicato, un piatto, come vi dicevo, molto molto semplice, l'unica difficoltà nella realizzazione di questo piatto è selezionare materie prime di primissima scelta. Grazie a tutti. Grazie a tutti.